Ciao, sono qui nell'aeroporto di Madrid di ritorno verso Malaga e quello di cui voglio parlarti questa mattina è la tua capacità di scegliere. Ebbene, molte persone mi chiedono, ma tu fai tutta una serie di cose, beato te, eccetera, eccetera. Guarda, quello che ti voglio dire oggi è questo, è che noi abbiamo la possibilità di scegliere tutte le cose della nostra vita. Anche ad esempio il fatto che io mi trovi qui, al mattino, presto, di ritorno, verso una città in cui ho scelto di vivere, qualunque cosa che noi stiamo facendo la stiamo scegliendo sia che siano circostanze positive sia che siano circostanze che noi possiamo refutare negative. Qualsiasi cosa noi facciamo nella nostra vita fa parte delle nostre scelte. La cosa che ti permette di essere maggiormente nel tuo potere è renderti conto che ogni cosa che tu stai facendo nella tua vita la stai scegliendo. Per cui, quello che ti voglio suggerire di fare oggi è di prenderti proprio un attimo e di prendere in mano tutte le situazioni della tua vita, anche tutte quelle che tu chiami i doveri, ciò che sto facendo perché devo farlo, ciò che sto facendo perché non posso farne a meno. Ebbene, metti tutto in discussione e comincia a dire Ebbene, questo lo devo fare o sto scegliendo di farlo? Vedrai che quello che risulterà è che nella tua vita qualsiasi cosa tu stia facendo lo stai scegliendo e renderti conto di tutto questo ti permette di appropriarti della tua esistenza, di diventare maggiormente libero. Perché quando tu ti rendi conto che anche le cose che tu magari non ami fare le stai facendo perché tu stai scegliendo di farle, questo ti restituisce tantissimo potere e quello è un punto di partenza veramente fondamentale per riappropriarti della tua vita, della tua energia e per costruire un'esistenza che ti assomiglia rispetto ad un'esistenza che magari non pensi di aver scelto di vivere. E con questo ti saluto e ti auguro una meravigliosa giornata. A presto, ciao, buone scelte!